Volevo chiederti subito se per te quella di domani rappresenta una partita a scudetto o solo una grande partita? A me mi sembra facile per una detta lavori non dire partita a scudetto perché prima di tutto, al di là della detta lavori, ci sono 11 partite, può succedere di tutto, la matematica non è un'opinione, quindi dopo questa partita ci sono altri, se non voglio, 33 punti in palio, 11 partite, dove può succedere sempre di tutto, quindi che poi sia una partita affascinante, importante, sentita per poi i napoletani da sempre, una partita contro la Juventus rappresenta qualcosa di speciale, questo sì, questo lo avventiamo tutti, ma da questo punto di vista siamo anche abbastanza abituati perché ne abbiamo già fatte tante sfide, del genere, qualcuna è andata bene a noi, qualcuna è andata bene a loro, insomma, tante soddisfazioni ce le siamo già tolte. Poi un'altra domanda che...